Ragazzi, sentite cosa dice Putin nelle parole molto molto pesanti. Leggete sotto in dettaglio. È un esercito, una marina e efficaci sono garanzia della sicurezza e della sovranità del Paese, garanzia del stabile sviluppo del suo futuro. Pertanto presteremo attenzione e prioritare il rafforzamento delle nostre capacità di difesa. Continueremo a equipaggiare le truppe con attrezzatura all'avanguardia. Si tratta di nuovi sistemi di attacco, apparecature di ricognizione e comunicazione, droni e sistemi di artiglieria. Oggi la nostra industria sta rapidamente ammuntando la produzione dell'intera gamma di convenzionali. Sta sviluppando la produzione in serie e gli ultimi modelli per l'esercito, la flotta e le forze aerospaziali. Ragazzi, sentite adesso, presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade, quella roba lì. Quest'anno entreranno i servizi i primi lanciatori del sistema SAR e MATTA. Andate a cercare questa parola e troverete che cosa sono. C'è poco da scherzare. Questo è quello che ha detto, ragazzi. Allucinante. C'è poco da scherzare. Poco. Leggetelo bene, rileggetevelo voi. L'ha detto adesso.